Questo video è offerto da e di conseguenza la fermata delle grosse industrie. Noi abbiamo deciso con i lavoratori di stare in stato di agitazione permanente per manifestare il nostro dissenso rispetto a questa volontà della chiusura dell'OIAS perché siamo convinti che l'azienda sia estremamente importante per questa provincia e perché vogliamo difendere il diritto al lavoro di questi dipendenti dello stabilimento. Per noi l'IAS è importante in quanto fa confluire tutti i refri della zona industriale e per noi è un sinonimo di garanzia il fatto che tutti i refri della zona industriale confluiscono sull'IAS. Non è accettabile che si possano autorizzare più scarichi nella nostra provincia in quanto è una provincia già fortemente impattata da un punto di vista dell'inquinamento. Noi siamo convinti che questo impianto sia fondamentale e vitale per la nostra provincia proprio perché vogliamo salvaguardare la salute e proprio perché vogliamo salvaguardare il diritto al lavoro dei 50 dipendenti dell'OIAS. Il sindacato in questa fase è a garanzia e a tutela dell'ambiente, dei lavoratori e dei cittadini di più. Quindi in parole povere il sindacato oggi chiede di evitare lo stress alle famiglie e ai lavoratori dipendenti e non mettere in discussione e a rischio il polo industriale. Cosa voglio dire? È da due anni circa che la magistratura chi ha il pallino nelle mani sta valutando l'inquinamento e non l'inquinamento. Siccome siamo a tutela e garanzia per l'inquinamento e la salute vorremmo capire ad oggi a che punto siamo perché lo stress sta assalendo e quindi come diceva il collega noi entriamo qua, staremo permanenti a tutela e garanzia dei costi di lavoro e dei lavoratori. Quindi vorremmo sapere a che punto è che sappiamo già che c'è l'incidente probatorio che fanno i controlli e quindi vorremmo capire se c'è questo inquinamento e quindi decidiamo che c'è l'inquinamento e decidiamo di farsi ma se non c'è dovremmo levare tutto questo casino e quindi togliere lo stress ai lavoratori. Buongiorno a tutti, grazie ai lavoratori dell'IAS ma grazie anche a voi che avete compreso molto bene che questo non è un tema che riguarda solamente i lavoratori di questo depuratorio ma è un tema che riguarda tutta l'area industriale. Noi siamo qua oggi per dare un segnale e dire che questo è il punto di partenza rispetto a un percorso che vogliamo costruire insieme così come abbiamo detto quando abbiamo fatto l'assemblea con i nostri lavoratori. Noi vogliamo fugare ogni tipo di dubbio noi siamo qua perché vogliamo sapere la verità il tema dell'inguinamento non è un tema che riguarda cose soggettive abbiamo chiesto di sapere perché è un nostro diritto da lavoratori di quest'area industriale ma soprattutto da cittadini di questo territorio venendo qua avete visto migliaia di famiglie che fanno il bagno a Marina di Briolo allora qualcuno sta dicendo che quelle persone oggi stanno mettendo a rischio la loro vita noi vogliamo sapere qual è la verità siccome c'è un incidente probatorio in corso noi crediamo che bisogna aspettare quegli esiti non si possono prendere provvedimenti chi dice che i privati non possono conferire in IAS sta dicendo che la storia di questi 40 anni è stata una storia finta, falsa e che ha mentito alla popolazione di questo territorio questo per noi è inaccettabile chi è più grande di noi si ricorda che 40 anni fa era impossibile venire a fare il bagno qua oggi si può fare il bagno allora noi vogliamo sapere e pretendiamo di conoscere qual è la verità questa è la battaglia che noi vogliamo fare ci devono dire se è vero ciò che pensa la magistratura o no noi vogliamo ragionare su dati certi ci pare che su questo tema si stanno facendo troppe strumentalizzazioni e si stanno facendo sulla pelle di 10.000 famiglie che lavorano in quest'area industriale e lo si sta facendo sulla popolazione di questo territorio allora noi abbiamo chiamato anche la politica ad esprimersi e lo faremo perché oggi è solamente un inizio noi vogliamo costruire un percorso che preveda anche che i nostri politici i rappresentanti di questo territorio ci vengano a mettere la faccia come noi per dire cosa stanno facendo per difendere i cittadini della provincia di Siracusa noi vogliamo sapere la verità non vogliamo dare l'agio anche alle grandi aziende di poter dire che si può concludere una storia importante come questa con un colpo di spugno per noi questa non può essere la soluzione e sbaglia sbaglia chi dice anche rappresentando gente di questo territorio che dice che questo impianto potrà andare avanti solo con i reflui civili non può andare avanti per una questione tecnica e soprattutto non può andare avanti per una questione sociale qui ci sono 40 famiglie che oggi vivono di questo e che domani non potranno vivere allora noi siamo qua oggi in questa settimana perché vogliamo dare un messaggio chiaro noi siamo determinati a difendere IAS e a difendere l'area industriale siracusana e siamo pronti a tutto per farlo questo è il messaggio molto chiaro che noi oggi vogliamo dare quindi questo è il messaggio che FICTEM, FEMCA e Wiltec insieme oggi vogliono dare noi lasciamo la parola a voi però insieme dobbiamo costruire un percorso di difesa e di lotta per 70 anni di storia dell'area industriale e per 40 anni di storia di questo impianto che per noi è la garanzia che questa zona industriale è compatibile con l'ambiente questa è la nostra posizione dobbiamo uscire anche noi da ogni situazione di ambiguità questa è la nostra posizione per noi la garanzia ambientale si chiama IAS chi sta accertando ci dica come stanno le cose noi vogliamo ragionare sulla base di questo non sulla base di protagonismo o di pensieri di singoli soggetti grazie sono un dipendente e lavoro nel laboratorio allora sulla scena di quello che ha detto il segretario Bottaro io vi esprimo la mia impressione personale a me sembra a volte di vivere in questo contesto come se fossimo a fare questo cioè tu entri in un paese io lo scefio prima di spare e poi di chiedere se sei buono o se capito cioè noi abbiamo un'accusa infamante che non è stata ancora accertata perché è tutto ancora in corso d'opera peraltro i riscontri che abbiamo noi sulla nostra uscita e peraltro comprovati anche da altri laboratori sono più che buoni quindi sul punto di vista del funzionamento dell'impianto io onestamente non vedo criticità e però nonostante questo si deve interrompere lo scarico degli industriali nonostante questo noi siamo condannati non solo sul piano tecnico ma anche sul piano economico cioè questa realtà è una realtà che non può funzionare senza il contributo dei canoni pagati dagli industriali cioè qui chiude chiude completamente e i comuni di Piola e Melilli potranno andare a scaricare direttamente al mare con tutto quello che comporta in termini di disastro ambientale vero per non parlare poi delle industrie gli impianti che stanno facendo i signori industriali per carità di Dio sicuramente saranno a posto, a norma tecnologicamente avanzati e tutto ma la quantità di reflue e la qualità del reflue che vanno a trattare garantisce loro rispetto a un impatto ambientale minimo? secondo me no secondo me no perché non hanno la potenzialità che ha questo impianto qui e che ha dimostrato nel corso di 40 anni oltretutto ci sarebbero dei problemi anche a controllare i vari reflue perché l'ARPA tutt'oggi non ha il personale per poter gestire i controlli punto per punto nei vari punti di scarico ammesso che abbiano la possibilità di scaricare perché poi alcune aziende hanno dei problemi proprio tecnici a scaricare perché nella rada di Agusta non si può scaricare dove scarico? nel Marcellino, la Sonatrack? impossibile quindi io non lo so penso che chi ha fatto questa azione diciamo di chiedere la chiusura in media degli scarici uno non capisce niente di come funziona l'industria perché immediatamente non si può fermare un processo industriale due non ha idea delle conseguenze a cui va in conto tutto quanto il territorio nostro, politico e non ha neanche idea delle conseguenze che ci possono essere a livello ambientale onestamente mi sembra di vivere proprio in una situazione diciamo ai confini della realtà ecco questa è la mia allora intanto buongiorno ringrazio tutti i partecipanti a questa assemblea aperta anche a voi quello che mi preme dire è io è da 35 anni che lavoro in questo depuratore è stata diciamo da qualche anno ci hanno fatto delle accuse che veramente hanno offeso la dignità mia e dei miei colleghi a livello personale, professionale quando tutti noi siamo ritornati a casa dopo il 15 giugno del 2022 e c'erano anche i nostri figli che di papà dove vai a lavorare tu inquini hanno fatto delle accuse veramente offensive io dico questo questo depuratore dall'83 che è in esercizio ha garantito a tutti i cittadini di Priolo, Melilli e anche fuori provincia perché nella spiaggia di Priolo vengono anche da fuori provincia la baleabilità a questo mare che tutti ben ricordano che nell'82 anni 80 era impossibile praticare queste diciamo disposizioni, questo sequestro di questo impianto ha dell'assurdo perché perché qualcuno non so a livello alto non ha capito e sconosce il funzionamento di un impianto biologico a fanghi attivi questo cosa vuol dire che dal 2026 con il distacco dei grandi utenti questo impianto dovrebbe depurare solo i reflui civili di Priolo, Melilli e i piccoli utenti della zona di Targia questo qualcuno non ha capito che non è possibile tecnicamente noi abbiamo le dimensioni delle vasche il processo, gli schemi di flusso di questo impianto non potranno garantire il funzionamento e anche che qualcuno ha dato delle autorizzazioni ai grandi utenti che in caso di dal 2026 in poi con in marcia i loro impianti in caso di necessità in caso di emergenze climatiche per le forti piogge possono hanno diciamo lo sfogo di poter scaricare l'IAS qualcuno quando ha fatto questa autorizzazione ha fatto una cosa che non è possibile tecnicamente perché l'impianto biologico funziona con la vasca è fatta da batteri se i batteri si adattano ai reflui civili e quindi questo è un percorso che ci vogliono mesi e mesi e mesi non è che poi a un certo punto il grande utente ha problemi perché le acque piovane dei siti multisocetari anche dei grandi utenti non sono confluiscono tutti negli stessi serbatoi non hanno le acque separate le acque bianche dalle acque scure quindi non è possibile perché mi va in tilt il mio impianto quando mi vanno a scaricare nei momenti di difficoltà quindi anche questa opportunità che hanno rilasciato che hanno dato ai grandi utenti è una cosa che frutto dell'ignoranza ma non ignoranza ignoranza in materia perché non è possibile concedere questa opportunità quindi ritornare in un'epoca che si parla di ambiente in un'epoca dove ci sono le sanzioni dell'Europa perché non ci sono i depuratori perché c'è l'inquinamento gli scarichi a mare ritornare agli anni 80 prima degli anni 80 è una follia ma è una follia vera non è una cosa strumentale perché io lavoro per dire all'IAS è una presa è una cosa che veramente accadrà cioè qui i reflui di Priolo e Melilli perché io 500 metri cubi non li posso trattare in questo impianto con vasca da 18.000 metri cubi con tutti i tecnici che ci sono anche a livello internazionale un impianto di questo non può trattare i 500 metri cubi quindi i reflui di Priolo e Melilli entreranno ed usciranno tal quali quindi dal 2026 sicuramente ritornerà il divieto di bannazione alla Marina di Priolo ci saranno sanzioni europee io non lo so con quale cognizione con quale senso di responsabilità la politica la magistratura chiunque questo sia sta portando a questa chiusura del depuratore perché si parla di chiusura è inutile che mi dicono qui abbiamo progetti le navi da crociera non lo so che giochiamo qui con 100 metri cubi non hanno la cognizione di che cosa sia la IAS la IAS è l'impianto più grande d'Europa che tratta attualmente 2500 metri cubi ora e non è concepibile trattare 500 tecnicamente non è concepibile quindi il destino di questo impianto è la chiusura e quindi non lo so chi ti dovere qualcuno avrà le responsabilità e poi mi debbano andare a spiegare come la recinzione a sud dell'impianto biologico confina con la salina di Priolo che sono un'area dove ci sono ci sono 216 tipi di uccelli ci sono fanno cite fanno le tartarughe caretta caretta che vengono a nidificare nella spiaggia di Priolo qualcuno mi deve andare a spiegare perché questo disegno criminale perché verso l'ambiente è un disegno criminale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti